Ha scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. In ogni partita c'è sempre uno a cui non devi concedere né spazio né tempo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Prodezza assoluta! Che gol fantastico! Parità e pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Un'esecuzione perfetta! Da quella distanza ci sono un sacco di variabili da considerare. L'esecuzione è stata semplicemente perfetta. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo.